carissimi amici e amiche bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi su tenera amata continuiamo il nostro viaggio un viaggio un viaggio paradisiaco un viaggio di delizie e di scoperte anticipate di parte di quello che san paolo ha lasciato scritto nelle sue lettere ricordiamo quel bellissimo passaggio ciò che occhio non vide né orecchio udine mai entrò in cuore di uomo questo dio ha preparato per coloro che lo amano e come ben sappiamo qui abbiamo solo una piccola parte perché per risintonizzarci ricordiamo sempre che tenera amata ci parla di qualcosa della gloria accidentale che l'unica cosa che possiamo in parte non del tutto però in parte percepire anche in questa vita più di questo non si può però già queste abbastanza ci siamo lasciati la volta scorsa con un passaggio significativo bello per certi aspetti diciamo così inedito nel senso che ci ha delle prospettive che magari qualcuno non pensa le leccornie che cucinano i grandi santi del paradiso i grandi santi sono anche grandi distributori di piaceri culinari questo non è lo dico sorridendoci un pochino sopra però raccomando sempre e questo vale vale sempre ma qui in maniera particolare che per accostarsi a queste cose si vuole mente aperta e cuore ugualmente disponibile all'accoglienza chi c'ha idee precostituite chi pensa di poter sulla base delle conoscenze diciamo così astratte formali asetti che forse sarebbe meglio definire che abbiamo dalle verità di fede come dire essersi già fatto una sua idea è che questa è intaccabile incontrovertibile ha sbagliato canale insomma non è di nessun giovamento ascoltare queste cose perché se non si ha il cuore la mente aperta non è non è possibile quindi quando si entra in contatto con dio soprattutto con con il dio vivo e vero il dio autentico noi dobbiamo essere disposti a risettare alcuni parametri altrimenti non entraremmo in contatto con lui metteremo in contatto con la nostra idea che ci siamo fatti di lui non entro in questo argomento perché ci faremo quattro catechesi su questa cosa qui è quindi un conto stare in contatto con dio e un conto stare in contatto con l'idea che ci siamo fatti di lui e quindi conseguentemente delle cose che gravitano intorno a lui guardate che questo comporta tanto una serie di prese di posizioni di giudizi a prioristici a volte di faziosità questo vale anche per i problemi in generale io guardo e osservo faccio solo questa premessa però una premessa che credo sia molto importante no supponiamo su grandi questioni su grandi problemi ci sono due modi di approcciarsi amici quello di chi è aperto cioè c'è un problema di difficile soluzione c'è una questione intricata può essere una questione personale familiare sociale politica ecclesiale che posizione prendo allora ci sono due possibilità o io a priori anche in base a quello che sento a quello che mi sembra più verosimile prendo una posizione e questa presa di posizione può essere giustificata psicologicamente da tante cose anche se noi poi a livello come dire superficiale ci diamo sempre delle buone motivazioni ma può essere giustificata per esempio io qui faccio ci sono delle posizioni anche a livello di problematiche ecclesiali che vengono prese perché perché se prendo questa posizione è quella che mi creerà meno problemi e mi darà meno preoccupazione e meno da soffrire è chiaro che però io questa me la dovrò giustificare in termini sopranaturali se è una posizione ecclesiale allora che cosa succede se io ho già fatto questa scelta e magari su questa stessa posizione chi la pensa diversamente da me ha degli argomenti insomma fruibili spendibili io li respingo a priori li respingo a priori se invece c'è una persona una terza persona che non ha preso posizione ma vuole semplicemente farsi un'idea che cosa farà ascolterà con mente e cuore aperti chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro e poi pregandoci sopra interrogando la propria coscienza valutando anche le argomentazioni delle varie parti dirà mi faccio questa idea è molto diverso molto diverso questo è un atteggiamento che noi dobbiamo sempre avere e è rarissimo averlo rarissimo siamo sempre pronti a mettere in discussione le nostre convinzioni tanto se noi cerchiamo sinceramente la volontà di Dio e quello che Dio vuole arriveremo sempre dalla parte giusta perché il nostro Signore non permetterà assolutamente che una persona che cerca sinceramente il divin volere e quello che Dio vuole e pensa si inganni o si è ingannata potrà essere per un po' ma non in maniera definitiva torniamo a tenere amata che ci siamo già mangiati cinque minuti stiamo nel capitolo 7 capitoletto 7 scusami dissi a tenere amata ti sto sentendo chiaramente ed il suono si propaga a 343 metri al secondo qui tra l'altro ci si fa una cultura o meglio si ripassano tutti quanti queste bellissime cose no 343 metri al secondo è tanta roba dice aspetta quindi guardate questo come intelligente no quindi questa conversazione qui nella sala sono passati almeno diversi minuti e non millesimi di pico secondo capite il ragionamento che fa no? se il suono si propaga a 343 metri al secondo ci siamo già detti un sacco di chiacchiere quindi le chiacchiere io le sento con le orecchie quindi tu emetti dei suoni è impossibile che stiamo dentro il paratempo del pico secondo ricordiamo qualche puntata precedente no e la risposta di tenere amata attenzione non ti allarmare per ciò che sto per dirti in realtà non stiamo comunicando mediante parole udibili ma mediante idee ora io mi permetto di glossare chiosare questa frase dicendo che non c'è assolutamente niente di cui stupirsi perché gli angeli si legga San Tommaso d'Aquino comunicano attraverso questo modo cioè gli angeli non comunicano attraverso i suoni delle nostre corde vocali come fanno a comunicare supponiamo che io adesso stessi zitto chi lo sa come fanno se fanno una trasmissione in diretta in diretta telecom con 150 persone partecipanti vabbè sarebbe un po' più difficile no ma come fanno a comunicare gli angeli gli angeli non parlano quindi non parlano nel senso di non usano le corde vocali ma parlano parlano col pensiero cioè semplicemente una trasmissione di un pensiero loro hanno la capacità di formare quel pensiero spero di essere chiaro nella mente di un altro angelo che quindi percepisce quel pensiero come il pensiero dell'angelo da cui il pensiero parte parlano così ma e anche Dio quando ci parla ci parla così Dio parla solo così in questo mondo e il problema è che noi dobbiamo imparare a decifrare quali sono i pensieri di Dio quindi quali sono quelli che si chiamano le ispirazioni Dio parla solo così a noi qui in questa vita pure il diavolo purtroppo ci parla così perché pure lui ci manda i suoi pensieri con le tentazioni per chi sa un pochino di queste cose non c'è proprio niente di cui stupirsi un'altra sorpresa dice Riccardo non stavamo parlando era incredibile ma dovetti darle ragione perché se ci trovavamo in una frequenza temporale di mille milionesimi di picco secondo ormai non ci siamo familiarizzati era logico che non si propagasse il suono delle parole da buon fisico intelligente si arrende allora Dio chiede ci stiamo forse comunicando per telepatia la comunicazione angelica non è telepatia neanche quella con cui il nostro signore si comunica a noi qualcosa in più la mia anima è in contatto spirituale con la tua in questo modo conosco i tuoi pensieri controllo ed adopero il tuo archivio di memoria intellettiva attenti eh e il magazzino della tua memoria sensitiva cerebrale questo è un passaggio fondamentalissimo la memoria un passaggio utile per capire un pochino di antropologia vera come siamo fatti noi le tre facoltà spirituali secondo gli autori sono l'abbiamo già visto credo l'intelletto, la volontà e la memoria attenzione però che la memoria ci consta dall'esperienza che c'erano anche gli animali ad avvedere se tu fai una carezza al cane come se la ricorda ad avvedere se tu devi mangiare un gatto come si ricorda di venire a casa tua come fanno? perché hanno la memoria la memoria cosiddetta associativa il pappagallo che parla il cane che il cavallo che ai circhi sembra che conta eccetera eccetera sono tutti quanti giochetti di memoria associativa non sono nient'altro che questa ora questo perché? perché la memoria qui la chiama giustissimamente sensitiva cerebrale funziona solo con l'organo corporeo non c'è bisogno dell'anima spirituale per avere questo grado inferiore di memoria quindi perché gli animali ce l'hanno? perché avendo l'anima immateriale l'anima immateriale funziona esclusivamente col cervelletto che hanno e quindi le funzioni cerebrali limitate che hanno bastano per integrare questo tipo di memoria ma te nella volta ti dici io sto anche prendendo adoperando il tuo archivio di memoria intellettiva è chiaro che le cose spirituali non funzionano con la memoria sensitiva spirituali non sono fatto spirituali intellettuali cioè io non mi ricordo che il teorema di Pitagora che evidentemente gli animali non possono conoscere perché non hanno un intelletto attraverso la memoria sensitiva ma almeno ricordo attraverso la memoria intellettiva proseguo la lettura la mia anima grazie ai suoi poteri di glorificata attenzione sta associando le tue idee in un modo diverso e più efficace di quello per te abituale apparentemente stai parlando a te stesso ma io intervengo e riordino i tuoi concetti e immagini per esprimerti meglio il particolare messaggio che il nostro Dio ti invia e che motiva la mia presente visita amici vi prego segnatevelo è lo stesso identico modo con cui Dio ci parla quando ci mettiamo in preghiera in preghiera profonda quando cominciamo a interrogare il nostro cuore alla nostra coscienza cosa fa? ci sembra che stiamo parlando da soli apparentemente stai parlando a te stesso ma non è così qui dice io facciamo che quell'io è Dio interviene e riordina i nostri concetti le nostre immagini per esprimerci i suoi messaggi i suoi sms le sue comunicazioni le sue ispirazioni fai così non fare colà e che motivare la mia presente visita quindi con l'anima di glorificata lei assume una capacità di comunicare a Riccardo in maniera simile a come Dio comunica con Riccardo appunto perché è glorificata se no non potrebbe io non posso comunicare neanche se io sono una persona reale davanti se lasciamo perdere sto davanti sto realmente davanti a 170 persone ma è una comunicazione mediata attraverso gli strumenti no se io sto dinanzi a una persona reale io non posso comunicare il mio pensiero non posso non è la nostra forma di comunicazione terrena non siamo angeli siamo uomini però ricordate quando Gesù parla discorso con i Sadducei dice una volta che stanno da quell'altra parte sono come gli angeli del cielo non soltanto perché non fanno più sesso mi si perdoni l'espressione un pochino esplicita sbrigativa ma anche perché assumono delle modalità di essere e di comunicare simili a quelle degli angeli una è questa allora proseguiamo dunque non è un dialogo questo ma un monologo questo ma un monologo perché lei gli legge il pensiero quindi poi il pensiero che vuole comunicargli glielo forma in testa dice quindi qui si preoccupa dice non è un dialogo ma un monologo lei dice oh stiamo in comunicazione ma non stiamo conversando come si fa di solito in questo mondo stiamo conversando quasi alla stessa maniera come facciamo noi beati con la differenza che io non ti sto infondendo le mie proprie idee ma soltanto concerto le tue affinché tu mi comprenda meglio sebbene ti sembri un monologo dopo vedrai l'importanza oh di associare nel dovuto modo le idee della coscienza importantissimo fondamentale è il primo passo per formare le convinzioni profonde ben radicate ed operative vedete perché perdonatemi questo è il mio piccolo momento di gloria vedete perché io in continuazione quando parlo dico attenzione la coscienza la coscienza la coscienza perché se tu impari ad associare nel modo dovuto le idee nella coscienza che è detto anche in parole impari a far funzionare bene il cervello perché la coscienza lo dicevo durante l'ora santa di ieri per chi vuole andarsi a fare un giro stava nell'ora santa di ieri sera la synderesis in greco synderes bellissimo è vedere profondamente insieme è proprio questa connessione tra idee fatta nella maniera corretta che ti permette di formulare dei giudizi corretti riguardo l'esempio che ho fatto all'inizio guardate che non sappiamo che entriamo in questo qui no se io voglio farmi un'idea corretta delle cose io non devo essere fazioso cioè ho già scelto la parte prima ancora che comincio a pensare è evidente che mi sarò anche fatto un'idea su qualcosa e magari hai istinto o anche a una certa prima indagine superficiale propendo verso una direzione questo è normale questo qui però sii sempre aperto se no non associerai nel dovuto modo le idee nella coscienza e quindi ti sbaglierai formulerai delle conclusioni sbagliate oppure non formerai convinzioni profonde ben radicate ed operative quando ci sono queste tre cose altre che non ci smonta nessuno non ci smonta nessuno voglio raccontare una storia tanto non faccio nomi però una storia reale chi mi conosce bene sa che io ormai da anni d'accordo tra le tante cose che cerco di come dire di proporre è una certa concezione della femminilità perché io sono persuasissimo sono convintissimo che una delle cause tra le tante della decadenza profonda della nostra società è la corruzione non solo la corruzione della donna ma lo stravolgimento proprio della funzione della donna dentro questo diciamo operazione di ricostruzione è a mio avviso molto importante che la donna impari a sentirsi donna e a mostrarsi come donna quindi riscopra un proprio patrimonio il proprio patrimonio bellissimo che è la femminilità che si esprime anche attraverso dei gesti esterni rinunciando in modo particolare ci sono quante apparizioni mariane volete su questo qui a le fogge esterne tipicamente maschili e riappropriandosi delle sue chiaro? questo proprio detto in due parole allora che succede? questo per molte donne è un trauma perché non ci hanno mai pensato perché sono cresciute in un ambiente completamente fatto in un certo modo quindi non sono passate neanche per la per la prima anticamera del cervello allora che cosa succede? ci sono due possibilità tre anzi una persona mi sente dire queste cose qua dice questo è fuori questo è fuori quindi cioè beata a te queste cose non le farò mai cioè non c'è niente le mali ma questo come me pare figura se questi sono i problemi della vita una possibilità poi c'è la seconda possibilità l'ha detto tu Leonardo quindi una persona che ti ritiene in qualche modo autorevole ah se l'ha detto Leonardo si fa io non sono contento che si facciano queste queste di questa soluzione non sono affatto contento ve lo spiego subito perché oppure terza possibilità che dice questo sarà vero non sarà vero pensiamoci un po' prendo atto però non lo faccio subito ci penso indago confronto mi formo mi formo ci prego con calma questa è la soluzione ideale vi dico io ormai sono preda quasi vent'anni le nostre cose le dico da sempre che cosa succede può succedere che c'è qualche persona forse anche tra i tre presenti capitano queste cose che per qualche motivo poi a un certo momento viene delusa da Don Leonardo oppure semplicemente si cambia pastore si trova un pastore più bello più bello in senso sopranaturale ovviamente quindi più santo più forgiato più interessante eccetera eccetera e magari quest'altro pastore non c'ha le stesse convinzioni profonde radicate operative di Don Leonardo allora che succede se tu hai cominciato a vestirti in modo femminile perché lo diceva Don Leonardo cambi pastore sai che succede che c'è il pericolo che dopo qualche tempo sarai conciata come non dico una spogliarellista di Las Vegas però di nuovo in termini abbastanza intraprendenti quindi non soltanto in fogge maschili ma anche vicini al confine tra l'indecenza e la decenza io l'ho vista queste cose perché mi sono arrivati a dare foto di persone che a un certo punto e che sembravano se tu vedevi le foto prima sembravano insomma aspiranti suore per quanto insomma esagerando avevano come dire interiorizzato certe cose e dopo che è successo io mi sono interrogato non c'è altra risposta che questo hanno fatto una cosa non perché c'erano la convinzione profonda ben radicata ed operativa ma semplicemente per l'oracolo che aveva parlato l'oracolo capite io non voglio assolutamente che succedano queste cose cioè io offro stimolazioni certamente quindi una catechesi è sempre una provocazione una stimolazione ma non bisogna metterla in atto a pappagallo cioè non è la persona ma è l'autorevolezza degli argomenti eventualmente perché se quegli argomenti ti convincono benissimo mettila subito in pratica perché questo è importante perché tu le tue scelte le fai davanti a Dio se quello che ti dice Don Leonardo è corretto è vero anche se Don Leonardo si dovessi impazzire o anche se tu dovessi cambiare pastore quella cosa rimane perché io non l'ho fatta perché me la diceva Don Leonardo ma perché quello che diceva Don Leonardo è vero e io l'ho riconosciuto interiorizzato come tale ne sono profondamente convinto e lo difenderò fino alla morte Dio stesso vuole che ci formiamo le convinzioni profonde e ben radicate ed operative va bene vado avanti se no non finiamo il paragrafo lei aveva ragione commenta in questo consiste la vera educazione è qui di nuovo il mio momento di gloria io sono convintissimo che proprio questo deve fare un sacerdote abilitare attrezzare le persone in questo modo questa educazione perché le cose che tu interiorizzi in questo modo le porti per tutta la vita e non te le toglie nessuno e le difenderai e ci combatterai e non le svenderai e non cederai manco morto vogliamo fare un esempio l'esempio classico di questi anni la comunione chi è che è stato capace di rinunciare anche per mesi alla comunione sacramentale chi aveva delle convinzioni profonde radicate e operative perché se io non ci riesco ho capito che non si deve fare per nessun motivo questa è la mia convinzione di prendere l'ossi e mano non è che se le circostanze diventano drammatiche estreme cedo non cedo trovo un sistema capite cosa significa questo a livello di se invece questa cosa si sarebbe meglio oppure no sarebbe pure bene però insomma entro certi limiti mi comporto diversamente adesso io rispetto tutti attenzione non stiamo adesso a come dire a a a a qui squidiare chi c'ha ragione e chi c'ha torto per questo per questo che io dico sempre mettili davanti la coscienza e non è che si arriva un oracolo perché ci sono stati gli oracoli che si sono messi a dare consigli concreti che è anche scamotage non ne parliamo allora sento quell'altro oracolo l'oracolo ha detto quello quindi adesso mi schermo dietro l'oracolo mi rimangio le cose in cui credevo perché l'oracolo ha detto no adesso si può fare diversamente ma quando mai l'oracolo non è Dio quindi se io davanti a Dio ho interiorizzato una cosa gli oracoli possono stappare fino al giorno del giudizio universale io vado avanti spero che siano chiare queste cose sono importantissime per questa e per tutte le nostre scelte di vita riprendo lei aveva ragione in questo consiste la vera educazione non basta imbottirsi di conoscenze fino a diventare una cirlopedia ambulante occorre ordinare e approfittare come si deve alcune poche idee basilari fondamentali per vivere cristianamente la vita terrena e necessarie per raggiungere il cielo ma come ottenere tutto questo tenera amata vide la domanda nella mia mente e mi rispose solamente con l'aiuto del signore ma lui è ansioso di concederlo a chiunque glielo chieda cristianamente come faccio ad arrivare a questa cosa qui quindi a formarmi un pacchetto essenziale granitico poche cose fondamentali e distinti su cui mi regolo e queste non si toccano quali sono le priorità assolute con l'aiuto del signore devi chiederglielo ah ma lui è ansioso di concederlo a chiunque glielo chieda cristianamente al signore non all'oracolo è al signore i beati conversano così come noi non esattamente ma quasi nel cielo ci comunichiamo infondendoci direttamente le nostre idee e immagini tuttavia parliamo anche molte lingue e dialetti questo lo dice anche questo Sant'Ommaso dice che i beati del cielo veramente Sant'Ommaso dice che le lingue le conoscono tutte perché Dio le conosce tutte non è escluso che la conoscenza delle lingue vari con i gradi di gloria idea mia personale e i dialetti si capisce tutto reazione di Riccardo godere in cielo del piacere del linguaggio su questo si permetta cioè quando uno comincia a conoscere un pochino di lingue antiche e moderne è uno spettacolo amici cari è bellissimo perché ogni lingua è meravigliosa è bellissima ha le sue bellezze cioè è bellissimo adesso bisogna difficile comunicarlo perché sono delle sfumature dei modi di costruire la frase dei termini i termini composti come li fanno le forme verbali una lingua le fa in un modo per esempio il greco ha 300.000 sfumature diverse ad esempio di verbi l'ebraico ha le forme intensive le forme causative il latino ha la sua ferreissima terribile grammatica e sintassica non si muove di una virgola proprio da l'esercito romano ma è bello e non è bello anche su questo fossilizzarsi soltanto su una cosa è bello variare d'accordo è bello spaziare un po' capito è bello è bello se uno ci avesse tempo conoscere tante lingue e senza preclusione anche qua sta gente ah io conosco tutte le lingue ma il cinese mai e perché mai se ci avesse tempo io ho studiato il mandarino che è una delle lingue più difficili del mondo ha tutte le lingue ma l'arabo mai e perché mai perché chi te l'ha detto che l'arabo fa schifo prima guardalo poi poi ha tutte le lingue ma il russo mai oggi il russo non va molto di moda no e perché i russi parlano tutti così e che ne sai vuoi essere pure che sia una lingua divertente potersi e che ne sai come a priori che vocaboli c'hanno che se c'hanno le coniugazioni io non so niente del russo quindi posso parlare se c'hanno questo o c'hanno quell'altro quindi aperture 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 nelle cose di Dio a quando sono le cose di Dio a apertura tutto quello ci mette davanti aperture godere in cielo del linguaggio parlare giustamente senza errori né vizi di dizione come quelli che ho io purtroppo lo sentite continuamente quando vi parlate quando sentite le catechesi ogni tanto mi intruppo mi sbaglio dico una parola o un'altra queste sono miserie connesse alla nostra situazione terrena per evitare questa cosa dovrei parlare come cioè mi dovrei mettere a parlare così faccio una prova eh per evitare questa cosa dovrei cominciare a parlare così però figlioli miei cari se io comincio a parlare così io sono morto nel senso che il linguaggio parlato c'ha questo fascino d'accordo che ha un certo intercalare c'ha le variazioni di tonalità di voce di intensità e se ti sbaglio ogni tanto pazienza è una miseria ci ho fatto pace ho connesso alla nostra condizione terrena però la comunicazione verbale per esempio io personalmente se sento una persona che parla con un tono di voce che mi fa dormire quindi il monotono no? quello che parla io mi addormo cioè attenzione questo può dire anche le più grandi verità di fede universali ma io non ce la faccio conosco persone anche di elevatissimo calibro che sono così e io leggo quello che scrivono ah perché se te leggi quello che scrivono vai in estasi ma se ti metti a parlare ti addormi quindi in cielo avremmo questa bellezza di poter parlare a rota libera senza però introppasse senza introppasse senza errori né vizi di edizione a volte si possono anche commettere errori grammaticali specialmente se una persona non è molto come dire molto colta molto estruita pur se te lo spia qualche verbo anche in italiano no? l'immagine che ha classica se sarei non si dice se sarei perché si dice se fossi però magari una persona che non c'è una grandissima cultura il se sarei te lo te lo spara e se te lo spara non mi raccomando non bisogna mortificarlo bisogna fare pinta di niente però è molto più facile se uno non ha una padronanza perfetta con una lingua straniera che quando parla non soltanto fa pronuncia difetti di edizione ma dice pure qualche strafalcione grammaticale e pazienza vedete in paradiso queste cose qua non accadono ecco ed sarà un gran sarà un gran godimento anche questo primo il piacere del linguaggio ripeto per capire bene questa frase secondo me bisogna conoscerla qualche lingua è chiaro che se uno sa soltanto l'italiano ma già i dialetti no io quel dialettico quel poco mi diverto tantissimo mi diverto cioè a sentire un napoletano io mi diverto tantissimo ma mi diverto tantissimo pure a sentire un bolognese d'accordo oppure un toscano che c'hanno tutte quante quelle aspirazioni d'accordo o quegli usi impersonali allora dove si va noi dove andiamo allora dove si va cioè è bellissimo cioè la varietà gli atteggiamenti di chi dice ah no questa cosa fa schifo è bello soltanto il milanese perché è bello soltanto il milanese sono belli tutti i dialetti d'Italia è bello il milanese è bello il romano è bello il toscano è bello il napoletano è bello il calabrese il siciliano sono belli tutti e poi che i secoli che stiamo a scherzare sono fortissimi anche lì è divertentissimo quando uno sente un dialetto no? specialmente quando perché ci stanno alcuni dialetti specialmente i siciliani quelli dell'ex magna grecia che hanno tratto un sacco di parole da greco in dialetto e se tu sei il greco ti diverti a sentire il siciliano e dici arda questo questo manco lo sa ma sta utilizzando un grecismo no? divertentissimo e questi sono i diretti del cielo amici non sono i più grandi dire esattamente i pensieri parlare giustamente senza errori nei vizi di ridizione dire esattamente i pensieri senza dubbi senza raggiri senza cattiveria senza pericoli troppo quando parliamo domani è la festa di Santa Teresa Santa Teresa diceva molto parlare non manca mai il peccato perché non ce la possiamo fare con la certezza di essere non solo ascoltati attenzione ma anche compresi compresi cioè ben compresi questo è un problema grosso nella comunicazione perché quando uno è molto chiaro è facile che sia compreso ma può essere frainteso io ogni tanto faccio qualche esempio oppure metto le mani avanti perché capisco al volo mentre parlo che dico attento che quello che stai dicendo se l'ascoltasse qualcuno che capirebbe fischio che fiasco e ciò nonostante ogni tanto mi arrivano le mail di ma tu hai detto questo qui e gli devo sempre rispondere all'aristotele dico guarda non ho detto questo ma omnia recipientur ad modum continentis cioè le cose vengono recepite al modo del contenitore e anche in base alle tue precomprensioni che tu hai per cui tu stravolgi una cosa che vogliamo fare misere della vita terrena che non ci saranno più non solo la certezza di essere ascoltati pensate quando stiamo parlando con qualcuno abbiamo l'impressione che non ci stia ascoltando che fastidio che ci dà ma anche essere compresi in questo mondo e questo lo dice Riccardo persona intelligente persona saggia occorre pensare molto bene ciò che si dice altrimenti sarebbe fatale dire quello che si pensa sta dicendo un proverbio pensare molto bene a quello che si dice e non dire ciò che si pensa sapete come dice il proverbio no? il saggio pensa quello che dice lo stolto dice quello che pensa pensate alle persone che se ne vantano ah io dico tutto quello che penso e pensano di essere pure io sono bravo dico tutto quello che penso dico tu sei stupido non sei bravo noi non possiamo dire tutto quello che pensiamo non so che non possiamo non dobbiamo dire tutto quello che pensiamo c'è solo uno a cui possiamo dire tutto quello che pensiamo tutto chi è? facile no? è uno che già lo sa però facciamo bene dirglielo a lui perché così facciamo le idee un pochino più chiare noi ma non possiamo dire quello che pensiamo dovunque in giro in questo mondo non si può fare ah in paradiso possiamo sfogarci come ci pare non è roba di questo mondo è una delle qui scopriremo tantissime cose sarebbe bello dire sempre quello che si pensa certo che sarebbe bello se si tratta chiaramente di cose non peccaminose ma non si può anche quando non è una cosa peccaminosa allora dice Riccardo perché non mi infondi le tue idee anziché accomodare le mie attenzioni c'è una sfumatura io forse prima non mi sono espresso bene ho messo le mani un po' troppo avanti e Teneramata non sta parlando a Riccardo infondendo le sue idee in lui sta utilizzando le risorse mentali mnemoniche di Riccardo quindi è una comunicazione mentale ma diversa infatti gli chiede perché non mi infondi le tue idee anziché accomodare le mie dice perché nessun mortale è capace di sopportare tanto piacere moriresti di gusto anche nostro Signore quando ci parla perché se ci infondesse la comunicazione infusa per esempio la locuzione interiore che è quella dove Dio parla proprio direttamente ha un prodigio divento immenso nel destinatario così il diavolo quando ci tenta mica mica noi sentiamo dentro la nostra testa la voce brutta che c'ha no lui compone sempre le nostre risorse mentali per formare un pensiero di tentazione così capiamo un pochino di dinamiche lo può fare purtroppo perché nessun mortale è capace di sopportare tanto piacere moriresti di gusto sono due volte che lo dice che moriresti di gusto non puoi immaginare quale piacere sia ricevere un'idea infusa equivale all'interpenetrazione spirituale al bacio tra due anime quindi trasmettere un'idea infusa è un'interpenetrazione spirituale un bacio tra due anime poi vedremo che ci sono anche le compenetrazioni corporali con i baci baci o i contatti compenetrativi tra corpi ci arriveremo ah ora capisco come fai a indovinare i pensieri miei tuttavia tu muovi le labbra guardate che roba cioè ragazzi oggi questo è veramente un capitolo che veramente dà tanta roba tuttavia tu muovi le labbra nel comunicarti spiritualmente con me se non parliamo con parole perché percepisco questi tuoi movimenti capite cioè allora lei gli ha detto che non sta parlando con suoni gli sta connettendo le idee sue in modo tale però che lui capisca i concetti che lei vuole trasmettergli non può farlo attraverso comunicazione infusa diretta perché sarebbe una gioia troppo grande per un viatore dice però tu muovi le labbra e quindi lei risponde per non sconcertarti quindi quindi non sta muovendo le labbra perché le sta utilizzando ma per adattarsi a Riccardo che quando sente qualcuno che gli parla vede le labbra che si muovono siccome in questo mondo non è fattibile il bacio tra due anime io pronuncio le parole che corrispondono alle idee che chiarisco coordino e faccio passare alla tua coscienza l'esprimo vocalmente con molto amore poiché sono per te sebbene sia impossibile udirle peccato che non debba comunicarti alcuna idea mia bellissimo fai la prova per favore gli dice Riccardo fai la prova lei dice no qualsiasi concetto strettamente celeste che io ti infondessi agirebbe come una convinzione irresistibile e tu o moriresti di gioia attenzione a quest'altro aspetto o perderesti quasi la libertà umana e quindi la capacità di collaborare con le condizioni del Signore su di te attenzione a questo secondo punto la fede amici la fede che ci chiama che chiama sempre in causa la nostra libertà in questo mondo molte cose Dio non ce le dice e non ce le comunica in un certo modo perché non vuole che noi arriviamo a quella certezza incontrovertibile che non ci permetterebbe di agire diversamente quello che molti desiderano ah ma se io fossi sicurissimo e convintissimo c'era la fede ma è esattamente quello che Dio non vuole perché se tu avresti una certezza incontrovertibile tu non potresti fare altro non potresti fare altro e perterresti la libertà qui c'è una nota le noti credo che siano scritte da Don Pablo dal traduttore mai toglierai il Signore il libero arbitrio che ci ha donato ad immagine della sua libertà e se in cielo i beati non vogliono se non ciò che vuole Dio è in virtù della loro piena conoscenza della verità ma sempre piena libertà cioè in cielo si realizza quella cosa che in Dio è perfettissima che si è liberi perfettamente pur volendo una sola cosa che è quello che Dio vuole non lo possiamo capire perfettamente Dio è l'essere libero per antonomasia ma è anche l'essere necessitato in un certo senso per antonomasia perché Dio sa fare soltanto al bene come queste cose possano coesistere in Dio non lo possiamo comprendere perfettamente in questo mondo ma è così e infatti come si dice le azioni ad intra di Dio sono tutte libere e necessarie per noi questi termini sono in contraddizione solo quella d'extra che Dio fa fuori di sé sono libere ma non necessarie vabbè non entriamo adesso in queste cose se no complichiamo già ancora di più la già complicata questione di tenere amata e quindi la capacità di collaborare con il disegno del Signore sui Dei meglio facciamo un'altra prova quando tu mi parli toccati le labbra e vedrai che non le muovi stanno in comunicazione spirituale con me devo sembrarti un cadavere seduto dissi allo stesso tempo e con grande sforzo mi portavo le labbra immobili se non ho saputo mai comunicarmi così spiritualmente con nessuno com'è che oggi sto conversando con te senza parole risposta non è lo stesso sapere che praticare ciò che si sa la tua coscienza lo ignora perché mai lo aveva sperimentato ma la tua anima spirituale lo conosce molto bene lo stesso che sa governare tutto il tuo organismo e dirigere le attività buiologiche intanto che la tua coscienza dorme tranquillamente o si occupa di altre cose anche qui abbiamo di nuovo abbiamo di nuovo una nuova un ribadire di nuova che mi sono intruppato una cosa che già abbiamo conosciuto l'anima che sa fare delle cose di cui la coscienza non è mai stata avvertita perché non l'aveva fatta prima dice tu non lo sai dice non è lo stesso sapere che praticare ciò che si sa l'anima sa come fare questa cosa non l'ha mai praticato adesso che è necessario praticarlo perché non c'è altra forma di comunicazione possibile perché stiamo in questo paratempo dove non è possibile parlare perché il parlare viaggia a tot chilometri al secondo e qui stiamo molto al di sotto della frequenza del secondo e quindi non sarebbe possibile usa questo sistema e questo è analogo abbiamo visto la volta scorsa credo a ciò che l'anima fa presiedendo a tutte quante le nostre funzioni biologiche per esempio il cuore che batte l'attività cerebrale che frulla il sistema nervoso che scarica impulsi elettrici dappertutto il sangue che circola gli atomi che girano l'apparato digerente che fa il suo lavoro l'apparato escretivo che fa il suo ancora l'apparato uditivo che fa il suo l'apparato visivo che fa il suo le corde vocali che adesso mi si stanno muovendo eccetera la respirazione gli organi proposti alla respirazione il naso la bocca i polmoni tutte attività presiedute dall'anima tutte nessuna esclusa è una plurilaureata la nostra anima per fare tutte queste cose ci vogliono conoscenze fisiche biologiche chimiche quindi matematiche la voglia a te a lauree che c'ha purtroppo noi per prenderle dobbiamo sputa sangue ma l'anima le sa già tutte queste cose quindi capiamo anche un altro concetto a fondo attenzione nessuno pensi che l'anima si identifica con la coscienza il grande errore non entro in questa in questa in questa in questa cosa evidentemente perché se no ravine ma è il grande errore della filosofia post cartesiana cogito ergo sum è proprio è proprio la 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 più grossa corbelleria che sia mai stato detto perché significa identificare un'attività cosciente che è il pensare con l'essere che è l'anima ma l'anima assolutamente la verità che conoscevano bene i filosofi classici non è cogito ergo sum ma è il contrario sum ergo cogito cioè pensare è un'attività connessa al fatto che io sono ma il mio essere e quindi la mia anima è molto di più che pensare perché pensare è un'attività che posso svolgere soltanto quando sono cosciente pensare non è la stessa cosa che sognare io adesso per parlare sto pensando nel sogno i pensieri sono ballerini a volte sono sconcatenati tutto il magma misterioso insomma che si determina nel mondo onirico nel mondo dei sogni veramente è così dice Riccardo ricordai che in caso di una grave infezione l'anima sa molto bene come aumentare le difese naturali sebbene non abbia studiato medicina pensiamo tutte quante le cose connesse vogliamo fare argomento di strettissima attualità anche con recentissime notizie di cronaca che non cito ma si capiscono il nostro apparato immunitario chi è che lo che lo governa è l'anima chi è che sa quando c'è una minaccia incombente e quindi dobbiamo aumentare le difese immunitarie chi è che fa venire la febbre è l'anima sapete che cos'è la febbre la febbre è un alzare la temperatura che è funzionale alla riproduzione alla alla produzione di maggiori anticorpi nel combattimento che si ha contro aggetti batterici o virus fa tutto l'anima non ha studiato medicina ma ne sa più di molti vabbè scienziati o sedicenti tali ma molti di più non gli deve insegnare niente devi soltanto non rompergli le scatole mi si passi il termine un po' feriale spinto cioè impedirgli di fare quello che fa con cose che gli fanno più male che bene ma devi casomai aiutarla e qui interrotto tanto il discorso non so se abbiamo fatto in questa sede o in qualche altro ciclo di catechesi no il nostro benessere fisiologico sicuramente aiuta l'anima in tante funzioni che ha tutti quanti i comportamenti distruttivi cominciamo a leggerli anche in quest'ottica perché se no te ne ramata rimane molto poetico fumare ma assolutamente no assolutamente no tu stai facendo del male al tuo corpo e alla tua anima fumando esagerare nel bere assolutamente no esagerare nel mangiare assolutamente no esagerare nel dormire assolutamente no esagerare nel lavoro mentale o fisico assolutamente no così come stirare troppo il corpo e quindi ridurre in maniera sconsiderata le ore di riposo qui salvo i casi in cui non ci siano delle grazie del Signore perché ci sono sono attestate pluriattestate nel corso della storia della Chiesa perché il riposo noi ordinariamente dobbiamo concedere non troppo però il Signore può darti la dispensa da quello che sarebbe diciamo così il tuo range necessario se ci sono delle motivazioni sopranaturali che lui ritiene opportune quindi comportamenti distruttivi no i farmaci prima di assumere un farmaco quando è necessario si assumono quando non è necessario non si assumono prima di farmi cioè prima di mettermi una cosa dentro il mio corpo io mi devo informare bene di quello che è e se c'ho qualche dubbio è meglio aspettare non c'è nessuna fretta cioè questi sono principi fondamentali perché la nostra vita anche quella terrena che è comunque un prodotto nella preparazione a quella celeste è sacra saremo chiamati a rispondere a tutti quanti i comportamenti distruttivi nei confronti della nostra persona non parliamo evidentemente la nostra anima la massacriamo quando da un punto di vista morale il massacro assoluto alla nostra anima è il peccato è no concludiamo e conclude Riccardo e concludiamo anche noi l'ultimo capoverso di questo capitolo era ammirabile la conversazione con la mia anima glorificata perché nonostante si svolgesse in mille milionesimi di picosecondo Teneramata mi lasciava pensare con calma e guidava le mie riflessioni con tutta opportunità e sentite che dice se sapessimo dialogare così noi mortali sulla terra quindi mi lasciava pensare con calma ti parla e ti lascia pensare interiorizzare assimilare e poi però al tempo stesso guida le tue riflessioni le cose dovrebbero sentire tutti quanti i sacerdoti i sacerdoti devono fare questo o devono fare con calma sempre nel rispetto di chi ti sta davanti nel rispetto della sua libertà anche se sbagliata un esercizio sbagliato della libertà va riportato sulla retta via va riportato va aiutato a tornare sulla retta via con questa pedagogia con questo stile pensa fornire l'opportunità di pensare per questo che è il delitto più grande l'ho sempre detto è non pensare le premesse che ho fatto all'inizio di questa catechesi che adesso capisco la luce erano sicuramente probabilmente diciamo non sicuramente ispirate perché se tu abdichi il pensiero è la fine è la fine Dio non ti può più condurre dove vorrebbe nel rispetto del tuo statuto ontologico di creatura libera che aiutandosi con le proprie facoltà deve giungere a formarsi quelle famose convinzioni profonde ben radicate ed operative ok amici mettiamo punto come diceva la buona Luisa Piccarreta e ci vediamo se ti vuole la prossima settimana Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga